quelli stanno a dire Attilio Brotel, sindaco di Isola del Giglio a che punto siamo sindaco per quanto riguarda il parco ed il suo divieto? questo è quello che si dice, c'è paura, c'è scetticismo ci sono delle domande che hanno bisogno di risposte qual è la sua risposta in merito? beh la nostra risposta è questa, che intanto non ci sono divieti assoluti ma una sorta di regolamentazione di tutte le attività che sono ricomprese nella nostra area marina protetta un'area marina che è prevista da una legge dello Stato una legge dello Stato che è nata oltre 20 anni fa che ha visto passare i governi di centro-destra e di centro-sinistra che nessuno ha mai modificato il che significa che a tutti questa legge sta bene perché regolamentare il mare intorno all'isola? perché chi vive su un'isola, un'isola anche che vive di turismo si accorge che oggi a mare si effettuano decine di attività diverse io dico promiscue che spesso finiscono per danneggiarsi l'una con l'altra l'attività di diving per esempio viene danneggiata dagli ancoraggi delle barche la pesca, lo stesso magari l'ascito di reti per chilometri e chilometri da noia al diportismo e così via spesso anche con danni non solo per l'ambiente ma anche per l'incolumità per cui l'area marina dà l'opportunità a noi, a tutti noi di regolamentare queste attività gestire delle aree, destinarle a un uso piuttosto che a un altro in questo processo che è di estrema importanza e anche di estrema intelligenza si fa molti, chi è contrario a questo cerca di opporre a questa logica che è una logica di ragionamento totalmente aperta una logica di paura e di terrorismo se si farà il parco non si potrà più fare il bagno non si potrà più fare questo non è assolutamente in questo senso che ci siamo mossi noi e nemmeno questo è il senso in cui si è mosso il Ministero dell'Ambiente lo stesso Ministero anche dal punto di vista turistico definisce l'area marina un make-up come un restyling dal punto di vista turistico come se nel futuro prossimo nessuno vorrà più andare a fare un bagno se non lo andrà a fare in un'area marina protetta Assessore, si parla di eletti? si parla di una volontà da parte di pochi affinché questo parco si realizzi ma è vero questo? ma guardi, quando si parla con qualcuno bisogna sempre capire perché dice quello che dice e chi rappresenta quando lo dice chi la contesta lo fa più che altro per una difesa di un interesse di parte tant'è che finora io le uniche critiche che ho sentito fare in merito alle misure di salvaguardia che si intendono prendere sono quelle di dire non le facciamo perché noi rischiamo di guadagnare meno non perché le misure siano sbagliate da prendere le persone, i politici sono veramente intenzionati a risolvere le questioni? guardi, se si parlasse appunto di un'amministrazione in carica le direi di sì perché si hanno delle responsabilità essendo in campagna elettorale ho i miei seri dubbi perché le campagne elettorali sono fatte io ho poca esperienza in materia e quindi non insegno nulla a nessuno però nella mia poca ho visto sempre le solite favole che si raccontano io ho avuto, ecco le faccio questo esempio qualche giorno fa mi telefonò una persona non faccio il nome però è sicuramente un soggetto coinvolto nella campagna elettorale prossima di Monte Argentario scambiando delle idee mi ha premesso dice scusami se in campagna elettorale parlerò male del parco dice ma altrimenti i voti non ne prendo ecco io penso che una campagna elettorale basata su questi fatti prenda in giro più che altro la gente e gli elettori perché la logica è sempre quella e lo dico anche da giovane è una logica che ripudio cioè quello di far preoccupare la gente terrorizzarla su qualcosa per poi proporsi come il soggetto che se votato risolve i problemi io direi che su questo argomento bisogna discutere però bisogna tenere sempre alto l'interesse pubblico rispetto a quello privato in ogni caso poi naturalmente si tratta di trovare il giusto rapporto per combinare le due cose insomma ecco ma io le dirò di più rispetto a quello che ha detto l'assessore nel senso che all'Argentario molte persone condividono la nostra posizione sulla tutela ambientale persone che stanno in silenzio che non vanno sui vernali che però apprezzano diciamo così il lavoro che noi facciamo perché sono consapevoli che una tutela ambientale alla fine porta benefici per tutti Argentario oggi è questo quello che vuole fare quindi far sì che il cittadino capisca in prima persona e si attivi sempre di più Assessore in un'ultima battuta cosa ne pensi? Beh io penso che innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato è sicuramente questo un servizio che voi fate per lavoro ma è un servizio veramente pubblico che fate nell'interesse della collettività perché siete anche tra i pochi che parlando di questo argomento avete avuto l'intelligenza di sentire tutte le campane perché quello che succede tutti i giorni è che il primo che si alza prende una penna scrive sui giornali e il risultato finale al di là di una sua soddisfazione di vedersi scritto sul giornale è che la gente a casa dopo un mese di notizie più o meno distorte non organizzate non capisce più nulla quindi dare spiegazione far sentire diversi punti di vista far parlare le amministrazioni arrivare nelle case della gente in questo modo è un servizio veramente importante di questo vi ringrazio è un servizio veramente pubblico Grazie a tutti